per fare entrare a red che Franks ci aveva vinto si è bello ma adesso che mi giro a piedi io sono da amazing dai io ci piglio sempre please no 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 please 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 stop why do you kill me fucking meeku fucking meeku no ci credo buona come è sponge sto cristo no the gaming vieni in sponge dai mi sei bloccato che sei che sei coglione oh ma che sei che sei coglione che sei notata che non c'è l'attivo eh potenza eh dio eh quanti stavessi il suo miglior gioco gear senza attiva gargiaggio 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 spera molto gargiaggio vabbè ragazzi mi sento guarda 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 io quando ero a chiccare c'è ma col primo colpo ti ho fatto male no troppo id sui colpi dei paperoni Oh no Oddio un pezzo di Mantis è volato tutto il tempo Oh fucking Mirko where are you going? Fucking ospo Sii Mantis, non ti chiam, please Respondi da te Oh Newbie Mantis No, please Only osk Oh ti giuro non ci sto pigliando io E poi implode No, è dietro Full red, fucking newbie C'è fucking freda Sto spongiando quella capriola Bello, non li hai neanche sparato addosso Esplosa Basta ste capriole Basta ste capriole Dai non ci credo E' un fallo Please, non ci piglio Oddio Oh 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 Adesso family C'è in che fai questo capriolo che si va a bollino andata a fermo perché non ci fai oh, ci sono andato, ho finito oh my god, oh my god son proprio preso che lo faccio please I'm lagging don't stop angoletto perché non è Dario sta giocando offline a FIVA no perché non vedeva l'ora ieri sono fulmentato ragazzi non ho compro 4 euro ronzo a combattere 10 ore 10 fa 17 sono fulmentato, non vedo l'ora di provarlo e perché speriamo sono scappato da lui perché ero più red ci ho trovato a te davanti cazzo roffi le palle a me eh tu cosa hai fatto prima ebreo eh ma lo... eh ma lo... fucking preda ma lo è di sceme ehi... il cieco di un errore dai sta capriole fa un c**o ehi... 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 però si è giusto mi vanno i suoi un pallo questo round no 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 vai di split vai di split come è brutta merda inizia a fare inizia a far come Darya indietro il GR appena ti carica io ci avevo i muretti dove hai m'appoggiato io ci sei sempre te allora devo andare eh qua ti è fatto da tre come dicevano ma questo è una stanza di merda con due firmi non ho mai perso oh questo è una stanza di merda i nostri vanno attraverso la connessione di merda che che stai Annetta ci potrà dei momenti di strada.